Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Perché non sarebbe un bagno di sangue solo per chi è sotto e resiste, è un bagno di sangue per chi entra, stiamo parlando di 10.000 metri quadrati di sotterranei, di tunnel che non si conosce. Guarda, questo qui è una sezione dell'accedere a Azovstal, guardate quanti piani ci sono, c'è la sala macchina, la sala manutenzione, c'è un'area residenziale, un'area di ristoro, c'erano addirittura le serre per l'autosufficienza, perché poi tutti questi impianti sono stati pensati ai tempi della guerra fredda, per resistere a una guerra nucleare. Quindi sono delle fortificazioni sotterranee praticamente inespugnabili. E' questa la ragione, infatti l'ipotesi era semmai che le forze speciali dei separatisti iniziassero a stanare gli ucraini, cercando di risparmiare un po' di più i soldati russi. Ma quello che dicevi poco fa, Putin non si può permettere di distruggere completamente, stiamo parlando dei tesori, l'Azovstal è la più grande acciaieria d'Europa, il Donbass è strategico anche per le sue miniere, anche perché è il polo industriale ucraino. No, Putin la ricostruzione di quello che ha conquistato gli costerà moltissimo e non può conquistare un paese da cui poi non c'è nulla da guadagnare, c'è solo da spendere. Quindi forse il ragionamento è più cinico, insomma, riguarda anche il massacro dei suoi soldati, più che degli ucraini che sono rifugiati lì sotto, e riguarda gli interessi russi. Perché non escono i civili? Perché non escono i civili? La maggior parte dei civili, a quelle che sono le notizie che ci sono arrivate da lì, sono parenti sia dei militari che combattono, sia di quelli che sono già stati uccisi. L'idea iniziale era, qui potete stare al sicuro, perché è pensata per resistere a una guerra nucleare, quindi i russi continuano a sganciare non solo le bombe, ma anche le bombe antibunker, che sarebbero fatte apposta per una situazione del genere, e comunque i piani inferiori di quella mappa che ci hai fatto vedere prima restano al sicuro. Ovviamente dire con certezza assoluta, considerando che... Però la base in questo momento c'è la paura, non si fidano dei russi, una volta usciti hanno paura di essere uccisi. Era considerata l'ultimo. In casi come questi vengono interrogati per capire dove sono i combattenti. E quindi poi rischiano di essere magari torturati o scambiati per combattenti. Non sarebbe la prima volta che i russi tradiscono la promessa quando... Cioè il motivo per cui gli ucraini non si fidano e chiedono garanti esterni quando i russi dicono arrendetevi, uscite pure... Vi risparmeremo, lo ha detto anche Putin oggi. Nel 2014 era già successo in Donbass... ...e ha detto anche questo. E gli ucraini hanno lasciato una città assediata dai russi, si sono allontanati di 10 km i soldati ucraini e li hanno massacrati con l'artiglieria quando si erano già ritirati. Quindi ci sono un po' di precedenti... Allora Massimo Nava e Mario Calabresi...